Alla storia di Gradara è più che altro legato alla storia di Paolo e Francesca. Siamo a Gradara, città di Paolo e Francesca, gli infelici amanti che Dante Alighieri collocò nell'inferno della Divina Commedia. Amor, che non l'amato amar perdona, fui presa del costui piacersi forte, che come vedi, ancora non m'abbandona. Come ogni anno per San Valentino, molte l'iniziativa in cantiere. Gradara nasce, questo evento Gradara da Mare, nel 2003, quindi sono già 21 anni che portiamo avanti questo evento ed è nato come tutti gli eventi che nascono a Gradara. La maggior parte di noi sono volontari, quindi seduti a un tavolino insieme a degli amici a programmare e progettare il futuro di Gradara. Gradara è la città per eccellenza dell'amore, la storia di Paolo e Francesca, ma non solo, sono nati tanti amori a Gradara. E grazie poi a un personaggio che si chiamava Matteo Giardini, che era un dantista, abbiamo iniziato a raccontare l'amore. Gli spettacoli di Dante nel Borgo e nel Teatro Comunale hanno reso protagonista anche il pubblico. Le attrici della compagnia Cinque Quattrini hanno cantato, recitato e regalato un attestato alle coppie registrate all'anagrafe dell'amore. Questo è il libro degli innamorati, anche e soprattutto ispirato a Paolo e Francesca. E questo libro è numerato, quindi è partito dal numero uno fino ad arrivare a oggi, che siamo arrivati al 1560, quindi alla 1560esima coppia, che è passata di qua e può scrivere liberamente una frase oppure anche una parola che identifichi la coppia. Non poteva mancare in chiusura dell'iniziativa uno spettacolo della corte malatestiana e dei Mangiafuoco e una sfilata in abiti medievali.